Scuso, adesso devo andare via, devo fare ancora i compiti. Beato te che non devi studiare. Ciao, torno a trovarti lunedì. Roberto, hai sentito il dottore? Ci sono queste nuove analisi. Può darsi che la cura abbia fatto qualcosa? Ora vai a casa. No. Rimango io. Come vuoi, ma ti prego, cerca di stare calmo. Io torno stasera. Io torno stasera. Mi dispiace, il risultato è positivo. Io torno stasera. Io torno stasera. Io torno stasera. Papà, mi sento molto meglio. Vedi, ho anche fame. Papà, hai detto tanto che volevo chiederti una cosa. Mi porti a Luna Park? per favore. Mi ci porti, papà? Adesso? E quando, allora? perché non mi hai detto prima? Non c'è stato il tempo. eri così occupato con il tuo lavoro. E io ti capisco, sai? l'altro giorno con Bernardo ti ho comprato un disco. Ero in collera con te e l'ho nascosto nello scappuzzino. Ora puoi prenderlo. Ora puoi prenderlo. Perdonami Luca. Non piangere papà. E' tutto spinto. Non ti preoccupare, a volte le giostre le spengono solo perché non c'è gente. Ora ci penso io. Vedrai che papà le fa funzionare. Scusatemi, chi è il proprietario? E' lui. Riccardo. Chi è il proprietario? Planigiami Luca. Paco diune del nostro canale Mohammed All攝 France, Chi è il proprietario Sai una cosa? Anche se sto male in questi giorni, sono felice perché sei sempre con me. In collegio quelli che al sabato andavano a casa ci prendevano in giro. Dovrei però vedermi ora con un lunapark tutto per me. Grazie a tutti. Sono stanko, papà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Papà, se mi è addormento, tienimi la mano. Così so che non mi lasci. Peccato non vederci più. Grazie a tutti. 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 Grazie per la visione!